buonanotte non prendere ieri ben dalle ore per la parola non è un italiano a a a non è un problema non è un problema e io ti ho detto la prima volta che non è vero ok attenzione a te per notti ora non ho fatto il tuo e atto con il mio amore il ragazzo di pietra l'articolo roma 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 mamma la velocità di euro che non mi piace tanto mamma mi sento alla schiena basta dappi dappi se c'è chi vedi eh sono sacani si verrà già stato da me oddio che fai ma stai indriccato e state le mani con la culo che sono pulicata a me a 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 grazie a me un po' per me per me per me ecco 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 la pente ecco anche la ponte lupo i un un Eccolo vento! Magari, basta giù una giù, vaia. No 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 no, muoh, allora! Oh, oh, oh! Eccolo! Uuuuh, svante! E' morto! Chi vuoi io dire? E' morto? E' vero! E vai! Non fa' roba! Oh! E' mai no! Curri ma i' mai no ne puoi!